Bentornati su New Retro, quest'altra gioia è McCloud King, un gioco italiano, soprattutto italiano, realizzato con il Seoc, ma fighissimo, questo gioco qua io ce l'ho pure sul mio mini C64 portatile, quello, ricordate il Dingoo no? Ci abbiamo fatto un paio di puntate sul Dingoo, la puntata quella su Barbarian e la puntata quella su Hercules Slayer of the Damned, andiamo a giocare, gioco craccato dai Fortress, che mai sentiti, mai nominati, mai sentiti proprio, andiamo a prendere il joystickino, andiamo a giocare a questo Cloud King, il cui nome somiglia a quello di Cloud Kingdom, che è un altro gioco fighissimo, a cui però giocheremo più avanti, che era un gioco della mia adolescenza commodorista, allora, vita infinite no? Allora, il gioco è stato fatto da Andrea Canobbio nel 2001, quindi vedete, la sua casa si chiama Anatomica, ok? Andrea Canobbio, questo gioco è stato fatto nel 2001, come vedete, sì, sono passati tanti anni, ma in realtà è molto dopo la morte e la risurrezione del Commodore, quindi questo gioco rientra assolutamente in New Retro. Andiamo a giocare, noi siamo, sto tizio su sta, una specie di divinità, che pare una specie di divinità demoniaca, che sta su una nuoletta, e dobbiamo sparare, cercare di non farci il beccato da suo fuoco, e possiamo anche cercare di recuperare questi oggetti, come fai? Così, però è difficile, perché di statunità non sbatte contro i muri. Ahia, cos'è una bocca, andiamo su, oltre il palazzo, sulle nuvole, il gioco è figo, eh, ahia, sto gioco sarebbe ottimo per una sfida, ci potremmo pensare, però, adesso io non sto in modalità sfida, non voglio fare una sfida ora, su sto gioco, perché, anche perché sto giocando male, quindi non mi conviene fare una sfida, però, vedete, lo propongo, se vi va, se vi va, ci facciamo una bella sfida, questo gioco, che figo. Oh, è il cacchio dei cavaliere? Ah, dimenticavo, gli oggetti li si possono prendere anche sparandogli, vedete? È molto più facile così, eh, perché prenderli fisicamente, sennò sarebbe impossibile, perché lo scrolling è impietoso, velocissimo, e noi siamo molto lenti nel movimento, quindi non avremmo proprio il tempo materiale, non dipende a prendere tutti gli oggetti, aiuto, 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 oh, c'è uno scrigno fantasma, uno scrigno bastardo, che in realtà si apre e ci vuole mangiare, ma forse, forse, sto gioco come sfida è ottimo, quasi, quasi, uso proprio sto video come se, come, come video per la sfida, eh, però voglio farmi almeno un secondo tentativo. Oh, attenzione, che bestia sono queste, sembrano delle lumache e maliene inquietantissime. Niente, non riesco a... no, mi sono murato, vivo. Allora, primo tentativo, 2009, 2009, andiamo a fare il secondo tentativo, il gioco è fatto veramente bene, è veramente figo, su Cloud King, che ricordo, non è Kingdom, eh, King. Andiamo a giocare. Secondo tentativo. Sparo sempre alle teste, cerco di sparare alle teste di sti draghi, perché sennò mi sparano il fuoco, è un problema. Adesso, giro, fanno più punti, dai, sono sicuro. Oh, cacchio. Oh, attenzione. No, mi ha, mi ha, mi ha assilurato, mi ha, mi ha fulminato. Oh, cacchio, stavo andando a sbatt... No, niente, già due vite se ne sono andate a fare... Attenzione, so concentrato un minimo, eh. Cioè, il problema è che il personaggio è veramente lento e bisogna pianificare molto in anticipo i movimenti, sennò... Sennò un problema. Oh. 4.300. Ah, la potevo prendere fisicamente, la stella, proprio col personaggio, non ci ho pensato. Poi prima ho fatto molti più punti, non so perché. Oh, cazzarola, lo sapevo io. Io sono morto qua l'altra volta, però ho fatto 9.000... Cacchio, che ho fatto a fare 9.000 punti morendo qua, non lo so. Sarà che ora sono stato molto più cauto. Livello 3 siamo, eh. 11.600, buono, madonna di textra, ottimo. Qua piano dei punti, attenzione. So pare il vaso del mago pancione. Niente. Oh, demone, demone. Aiuto. Eh, il demone mi ha fregato. E questi sono semi-invulnerabili, se basta. Vaffanculo. 12.000, se è il mio punteggio per la sfida, ragazzi. Ho fatto due tentativi senza allenamento. Questo video va bene sia per la sfida quella classifica, che per la sfida quella infinita, dove potete provare a superare il mio punteggio con un video, di cui dovete mettere il link qua sotto nei commenti. E vediamo se in massimo tre tentativi senza allenamento ci riuscite, oppure lo possiamo usare anche per la sfida questo video. E ora ci penso un attimo per cosa utilizzare, perché sapete, io metto nell'archivio e poi dopo ci si pensa. Gioco fighissimo, Cloud King. Noi ci vediamo al prossimo episodio di New Retro, ma anche delle sfide. Ciao ragazzi, alla prossima.